Se stai cercando un modo, una persona che ti guidi a raggiungere i tuoi obiettivi con la batteria, non confondere la popolarità con l'autorità. Per esempio, un batterista che ha tantissime visualizzazioni sui video, che pubblica sui suoi social relativi alle sue performance live, non è detto che abbia gli schemi logici per aiutarti a trovare le soluzioni giuste per te. Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, Strumenti per il batterista intelligente, e ho una domanda per te. Preferisci chiedere consigli a un batterista che è molto popolare e probabilmente per questo motivo non riuscirà a dedicarti il tempo e l'attenzione che tu necessiti? Oppure a qualcuno che può dimostrarti con i risultati, che ha già risolto ad altre persone gli stessi problemi che ora assillano te? E allora ecco, tre consigli utili per aiutarti a trovare certamente l'insegnante giusto che fa per te. Uno, dopo che hai scelto la persona che credi possa fare al caso tuo, fa una ricerca su Google, Facebook, YouTube e vedi se ha un sito dove ci sono pubblicati dei video, delle lezioni o esempi di esse. Cerca se c'è il suo curriculum di studi, perché a volte gli autodidatti non hanno fatto un percorso strutturato. Due, cerca in queste pagine se ci sono le testimonianze di ex studenti o attuali studenti. Meglio se corredate da un profilo Facebook, perché vedere una frase di complimenti scritta da Mario R senza la foto non significa molto. Tre, guarda se in queste pagine ci sono i suoi programmi di studio, ovvero gli schemi. La vera differenza fra un insegnante esperto e uno inesperto è proprio il possesso di questi schemi. Se queste tre condizioni non sono tutte presenti, non fidarti troppo di questo personaggio. Potrebbe non avere le capacità, l'autorità e le competenze per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. In definitiva, potrebbe non avere l'autorevolezza necessaria per insegnare a uno studente esigente come te. Ricordati sempre che sei tu quello che paga, per cui lui ha il dovere di dimostrarti che può ottenere la tua fiducia, oltre che i tuoi soldi. Tu devi trovare un docente a cui puoi affidarti ciecamente e incondizionatamente, perché senti che merita la tua fiducia. Fiducia che può dimostrarti, per esempio, facendoti vedere che nella sua vita è già passato attraverso un percorso di studio e varie fasi di apprendimento, in modo che tu possa avere un'idea del percorso che ti farà fare. Se ciò che vedi non ti suscita questa sensazione, cambia persona. Sicuramente là fuori ci sono gli insegnanti che hanno le capacità e le competenze giuste per te. Chi cerca, trova. Se ti è piaciuto questo video, ti consiglio di fare subito tre cose molto semplici. La prima è iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che The Drum Booster pubblicherà un nuovo video. La seconda è quella di andare nel blog di The Drum Booster, nel sito thedrumbooster.com, e di iscriverti, in modo da rimanere sempre aggiornato sui nuovi post che pubblico. La terza è quella di cliccare like sulla pagina Facebook di The Drum Booster e di iscriverti, di conseguenza, al gruppo Strumenti per il Batterista Intelligente, in modo tale da entrare in contatto con me e con quelli come te nella vita di tutti i giorni. Lì potremo discutere assieme di vari temi, per cui sono solo tre semplici cose, falle così resteremo sempre in contatto. Io ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!